Tanti anni fa ero seduto a Londra in un tavolo, c'era Gagliani e si sedette accanto a me Minoraiova, io non sa nemmeno chi fosse, io parlavo e lui avvicinò tutto piano piano come la goccia che comincia a parlare di Amsic Amsic, 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 ma tu che cazzo c'è? Amsic, ma che mi stai a far tutti vivere? No, perché? Insomma, praticamente, volevano Amsic a Milan, io assolutamente, mi telefonò poi il signor Moratti Aurelio, senti, mi dicono i miei... no, guarda, Massimo, Amsic non si muove da... Ah, dai, hai fatto bene a dirmelo, perché così li vieni di fermarsi... bravo... Poi, a lei che era sempre stato un estimatore fin da quando stava a Milan di Amsic, parlando con lui mi faceva sempre dei grandi complimenti per Amsic, evidentemente quando è passata la Juventus, due anni o due anni e mezzo fa, ma lo stesso Amsic, vennerete... Presidente, io ho una richiesta per... Stai buono... Stai buono... Grazie a tutti.